Il sogno di Mattei era dare energia agli italiani Oggi quel sogno si chiama Eni La più grande compagnia energetica italiana presente nel mondo in oltre 70 paesi E anche nella tua vita Un'azienda che guarda il futuro e investe nella ricerca per darti un'energia sempre più sostenibile E per continuare a crescere insieme a te Per questo oggi Eni ti offre le sue obbligazioni Rimetti in circolo l'energia Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto informativo Grazie a tutti